La liturgia lo prevede di... La liturgia è un grande, anche se non l'ho conosciuto personalmente, però non lo sentivo parte della famiglia e ci sono cresciuto insieme a finire con i suoi figli. Adesso sono momenti felici. Vengo da Napoli, sono di Mergelina e mi piace stare qui con me, per salutare un mito.